Certamente è stata una scelta non facile dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente esettario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consigliari regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi, ma forse anche più, come dire, guardare anche alla qualità, al merito, alla prospettiva, ecco, su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse.